Un incendio divampato Nella mattinata di domenica 30 ottobre Poco prima delle 9.30 Presso la falegnameria di un mobilificio Situato in via del colle a San Colombano Belmonte Le fiamme si sono sviluppate all'interno Non sono stati registrati Feriti o intossicati Sul posto sono intervenuti Per spegnere le fiamme e per la messa in sicurezza I vigili del fuoco di Ivrea Castellamonte, l'autoscara di Volpiano Il carro a fiamma e l'NBCR Sono presenti anche i carabinieri di Cornier E del nucleo radiomobile di Ivrea E del nucleo radiomobile di Milano E del nucleo radiomobile di Milano Grazie a tutti. Grazie a tutti.